il nostro autista è morto siamo a piedi raggiungici all'hotel rio blocca ricevuto sto andando ha preso per la via solo colpi non le dali ricordati che ci serve vivo è a terra ricordati la favela è piena di civili attento a dove stai occhi aperti mit porta via questi civili ricevuto se non c'è il progetto paramo sei attenzione abbiamo incontrato truppe neviche nel paese più in basso controllo dai testi vai granata uscito lo scoperto granata copritemi controllo metto un bersaglio ingresso ricevuto roes a rapporto basso lupo in quantità ma nessuna traccia di roa basso continuate a cercare fatemi sapere se lo avvistate roes muoverti andiamo roes a roes a Mita a terra, ripeto, Mita a terra! Mita a terra, ripeto! Mita a terra, ripeto, Mita a terra, ripeto, Mita a terra, ripeto! Mita a terra, ripeto! Oh Sì, sto vedendo lì, è Gary! Sì, sto vedendo lì! 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 Sì, sto vedendo! Sì, sto vedendo lì! 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 Rose, si sta avvicinando alla sua zona della pavela! Non fermare! Vai, vai! Sì! Ahhhh! 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 Il fuori a tegredo! Vai protelendo dal leste e mata todo mundo! Tomekbeer! Tá correndo pra onde? Volta aqui! Tem uma bola pra colocar na tua cabeça! Rhodes! O Individuato Rhodes! Está scappando ao verso de te! Não dispara-lhe! Te serve vivo e incônome! Tomekbeer do velho! É agora! Espero que já tenha escolhido teu caixão! Tu tá com tudo nele em pedacinhos! Tô me dando fugir, covarde! Me dê comertura! Estou recarregando! Soldado inimigo adianta! Arrede! Com muita graneta usa tudo! Ele foi me dando fugir! Vá! 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 Sì! e spero che già tena scolito toccato Sono andato a fuggire! Rout, ha cavalcato un'altra recensione ed è ancora diretto verso il suo lato della pavela! Muoviti, vai! Continua a spingermi in cima, non blocchiamo l'assù! Ghost, mi allontano a destra! Sta scappando! Io non credo! Qui, bravo sei! Abbiamo recuperato il pacco! Ripeto, abbiamo recuperato il pacco! Comando, pronti al decollo! Inviate l'elicottero! Invio cordi... Cazzate! Lo spazio aereo è libero! Mandate l'elicottero, ora! Il comando dice una marea di stronzate, siamo da soli! Sandbravo, 70 segnali non identificati nel vostro settore, verificate! Molto divertente, comando! Negativo, passo! Un modulo ACS potrebbe essere questo, signore! Sandbravo, avvio programma di diagnostica per rilevare difetti di funzionamento! Comando, spazio aereo libero! Avete dei contatti fantasma sui radar, passo! Zulu X-Ray 6, 100 segnali non identificati nel vostro settore, riferite! Negativo, comando! Area libera! Non so che cosa dirvi, forse dipende dal sole! Ci sono state molte macchie solari! Sierra Delta, abbiamo un problema con gli ACS! Vedi niente nel tuo mirino? Passo! Colunque! Sierra Delta, ripeti! Sto rilevando dei caccia sulla I-95! Ma come hanno fatto ad arrivare qui? Rimanete in attesa, controllo l'unità più vicina al settore! Recevuto! Qui 75esimo reggimento Ranger! Sergente Foley, unità Hunter 2-1! Mi sentite, passo! A tutte le stazioni, attenzione! Sorveglianza satellitare disabilitata! I sistemi SOSUS e per in posa, al momento non risultano operativi!